Da parte della regione massima attenzione alle esigenze dei comuni, dobbiamo accelerare sull'apertura di alcuni cantieri e risolvere alcuni problemi per l'apertura di altri. L'assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche ha commentato così l'incontro avuto con il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e il suo vice con delega alle infrastrutture Riccardo Meloni. Sul tavolo questioni importanti riguardanti il territorio Folignate. L'assessore Melasecche ha dato rassicurazioni sulla variante Sud, la cui fattibilità è stata certificata e che consentirà di collegare la Flaminia all'altezza della nuova Val di Chienti, sino all'area del nuovo ospedale, con tanto di ponte sul topino. Dalla regione massima attenzione anche allo svincolo di Scopoli, definito una priorità per il quale si è ritenuto necessario avviare un percorso politico istituzionale trasversale, sollecitando il MIBAC ad una risposta accelere. Per entrambi i casi sono già stati organizzati incontri con la società quadrilatero, i cui vertici hanno confermato la disponibilità a procedere appena superati i necessari passaggi burocratici.